in vantaggio il CSKA Mosca con la rete di Ariello Scafuro l'eccoso di turno mette in rete l'uno a zero per il CSKA il CSKA Mosca con la rete di Ariello Scafuro il CSKA Mosca con la rete di Ariello Scafuro il CSKA Mosca con la rete di Ariello Scafuro il CSKA Mosca con la rete di Ariello Scafuro Il giocatore non riesce a contenere la tigre per il momento. Tanti punti nuovi di rivoluzione cosperizzata. Il giocatore non riesce a contenere la tigre per il momento. Il giocatore non riesce a contenere la tigre per il momento. Il giocatore non riesce a contenere la tigre per il momento. Napolitano c'è ancora d'arco a a a a a 2 giocatori dell'ecsg la tenuta da una parte d'acqua dall'altra a 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 Palla per Di Lauro, Di Lauro per Napolitano chiude bene a Nilo Scappuro, poi Sepe, palla per Alfieri, Palla per Napolitano chiude bene a Nilo Scappuro, Palla per Napolitano chiude bene a Nilo Scappuro, Palla per Napolitano chiude bene a Nilo Scappuro, Palla per Napolitano chiude bene a Nilo Scappuro e Nilo Scappuro, a a a a la palla per il tepe però il pallone non riesce a prendere la palla tirato qui lì con il il fulmagnacca la palla per il fattore la palla per al piedi io vino, io vino, se ne mancate rispondono i fulmagnacca, grande palla per Tilauro troppo lungo il pallone, Tilauro la riconquista e Giovino solo, Giovino spara alto no 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 che sta che sta spara alto io vino, dovevo affermare e dovevo affermare a Giovino ragazzo no 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 buongiorno di Lauro di Lauro di Lauro di Lauro di Lauro di Lula è una città sana napolitana che beggio canale è stato ancora a piedi con lui Мandato in contaggio ancora a a pericolare la palla per piedi di quanto riguarda la palla però Giovino Grazie. 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 Trocchia, trocchia, amico, lei del 2001 ha portato verso il vantaggio alla formazione turca, Maffaele Trocchia, noi lo trovi, è stato Alipetti, un altro giocatore che ha visto i tanti derby dei vari anni dell'altro progetto di 4 anni 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 di 4 anni